Ciao sono la dottoressa Giulia De Angelis, collaboratrice del dottor Max, io mi occupo di leggerti i vari foglietti illustrativi, dei profilattici, o preservativi, dei quali ne consiglio assolutamente l'uso, a scopo preventivo di gravidanze non desiderate e molte patologie fastidiose e pericolose. In questo video esaminiamo il profilattico preservativo. 8 preservativi sottili aquel nudo, 52 mm. Gli aquel nudo sono tra i preservativi più sottili del marchio aquel. Le principali caratteristiche degli aquel nudo sono lo spessore ridotto del 25% rispetto al condom standard e la forma anatomica che garantisce un comfort maggiore rispetto ad altri preservativi. Ideali per chi desidera avvertire il meno possibile l'effetto cappuccio del preservativo, garantiscono rapporti quasi pelle su pelle. Gli aquel nudo rispondono all'esigenza di chi non sopporta il lattice sulla pelle ma la sicurezza non vuole rinunciare. Spero di esserti stata utile, metti un mi piace, a questo video e iscriviti al canale, per usufruire di tutti i servizi informativi dedicati alla tua salute. Grazie e buon proseguimento dalla dottoressa, Giulia De Angelis. Ci vediamo al prossimo profilattico esaminato. Grazie a tutti.